Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Ale Cutri, per i veterani del canale sicuramente si ricorderanno chi è, perché abbiamo fatto un sacco di video insieme, c'era tipo l'hashtag Ale Juice, te lo ricordi? Invece per chi non lo conoscesse, lui adesso fa il cantante, tra l'altro c'è un suo pezzo, quindi ve l'ho trovato in descrizione, a me piace un botto, mi raccomandate a vederlo, perché lui prima faccia i video su YouTube, poi si è dedicata alla sua carriera da musicista, da cantante. Esatto ragazzi, quindi seguo un po' meno il web, esatto. Oggi farò conoscere, farò vedere una ragazza che sta spaccando un botto in questo periodo, che è Virginia, che è una mia amica, si chiama Virginia Montemaggi, va bene, dice qualcosa questo nome, mai sentito, sta spaccando, andiamo a reagire un po' ai suoi musicali, va bene, va bene, poi te ne faccio fare anche uno, cioè ti faccio provare a fare un suo musicali, va bene, dai, va bene, accetto la sfida, accetto la sfida, vai, vai. Raga dovete mettere mi piace, siccome non lo dico da anni, dovete mettere mi piace, e commentare, e condividerlo, commentate con hashtag, allejuice, allejuice, buon pomeriggio di dire. Sono cambiati i musicali, una volta si muoveva il telefono, si cantava, adesso si recita, funziona? Si, fortnite, adesso anche le ragazze si approcciano a fortnite, fortnite. Giusto? Questo è forte, zio. Si. Sai che faccio, ballare così? No. Io si, zio. La mia performance. Bellissima. Performante. Talento, talento. Devo far vedere io che gira come si bala. Questo qua. Cosa c'è? È un buon ascanso. Il figlio, buon asmino. Adesso ti lo lancio. Sono cambiati i musicali, una volta si cantavano le canzoni. Cioè io mi ricordo. Ma secondo me, secondo me, la spaccatoria ha iniziato a fare cose diverse. Ma sta canzone la ricordi? Andavamo in giro nell'hotello. Comunque era una finta, era una finta. Oh sì. È successo, non lo so. Deve essere impallato, secondo me, non lo so. Ti faccio rifare queste qua. Dove mi devo impallare quel... Sì. Va bene, dai. Però lo facciamo insieme. Va bene. Non da solo. Va bene, va. Va, io. Ti devi mettere qua. Quando io clicco, tu fai così. Ti devi mettere così? Sì. Quando io clicco, tu fai così. Va bene. Ok. 3, 2, 1. Ok, ancora. 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 Hai ancora. Hai un mal di testa. Ancora. Ok. Ok, non sicuro. È finissima. È finissima. No, lo carico anche. Trovate in descrizione tutta la canzone completa. Facciamo i complimenti a Virginia perché sta spaccando un sacco ed è bravissima. Mettete un bel mi piace. E commentate. Se avete visto il video fin qua. Se avete visto il video fin qua commentate con un hashtag. Ti penso. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Che io tooko sul video. No.